Si aspettava una fine diversa? No, mi aspettavo una fine del preliminare e aspettavo il processo. Adesso è il 12 settembre. Un po' delusa. Ormai non c'è più niente che mi... Cioè, delusa ancora siamo... Quando inizierà il processo vedremo. Il più che vadino tutti a processo. Per il momento è la cosa essenziale. Che tutti vadano a processo. Voi ci sarete sempre? Sempre. Anche perché la colpa secondo me non è solo di uno. È una catena di colpe. Se lui ha fatto quello è perché comunque ha dovuto farlo in base alle anomalie che c'erano. E non è giusto che paghi solo uno, secondo me.